Benvenuti 10 settembre 2018 siamo sempre su CipRTV siamo sempre a CrossFit Bilizio la casa di CipRTV e oggi avremo una classe particolarmente complessa che inizierà subito con un Borgner warm up a cui seguirà un complex durante il quale dovremo costruire con il massimo peso possibile una sequenza di un hand power clean uno squat clean push press e un jerk fatto questo andremo immediatamente al WOD anche quello non sarà particolarmente leggero oggi stiamo parlando di un 4 time dove avremo un cash in di un mile di corsa un miglio vi ricordo sono 1600 metri poi ci sarà un DT e un cash out di 800 metri il DT vi ricordo è un Hero WOD composto da 5 round 4 time con 12 deadlift e 9 hand power clean e 6 push jerk per quanto riguarda i carichi gli avanzati gli intermediati utilizzeranno 70 e 50 kg mentre invece i beginner utilizzeranno 40 e 25 kg un'altra differenza sta nel cash in il miglio di corsa per i beginner sarà di 800 metri trovate tutto nella grafica qui di fianco ci vediamo domani buon WOD